Anita e Vittoria hanno scelto Gooby per la loro detersione, una mousse completamente naturale che è perfetta per le pelli di tutti i tipi di età, anche per le pelli dei ragazzi più giovani soggette alle prime imperfezioni. La mousse di Gooby può essere utilizzata mattina e sera e la sera è ottima anche per struccare il trucco più resistente, si può utilizzare anche sugli occhi perché non brucia. L'idea è in più, la sera possiamo utilizzare prima l'olio gel struccante, un olio in gel che va a pulire profondamente la nostra pelle e subito dopo la mousse. Quindi andiamo a risciacquare ed otteniamo una pulizia molto più profonda che permette di avere una pelle decisamente più pulita in profondità e pronta ad assorbire in modo più efficace insieme le creme che andremo a mettere.